Ciao amici di MyFootballGersey, oggi vedremo la comparazione tra la versione player e la versione fan della maglia, seconda maglia del Paris Saint Germain per la stagione 2022-2023. Mi raccomando seguite fino alla fine perché dopo i dettagli vedrete anche la diversa vestibilità delle due maglie. A dopo! Come possiamo vedere una delle principali caratteristiche è il fatto che stemma e sponsor tecnico sono in questo caso termosaldati nella versione player mentre sono ricamati nella versione fan. Questo concede al giocatore un maggior comfort. Vi ricordo sempre inoltre che la versione player ha una vestibilità più aderente pensata per il fisico dell'atleta, quindi si ordina normalmente una taglia più grande della versione fan. Infatti, in questo caso, la versione player che vedete è una versione L, mentre la versione fan che vedete è una versione M. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate potuto apprezzare le differenze che ci sono tra la versione player, che è quella indossata dai calciatori in tutto e per tutto identica, quindi un po' più tecnica, un po' più costosa e più sfiancata, e la versione fan che vedete qui di fianco. Come vedete, la versione fan è un po' più comoda, è quella dedicata ai tifosi, quindi un pochino più comoda, che costa anche un pochino meno. Le maglie sono identiche, però c'è questa piccola differenza. Per finire, spero che il video vi sia piaciuto e spero di potervi rivedere presto su prossime recensioni. Prima di lasciarvi, vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao!